Oggi parliamo di spaced repetition e come si applica per riuscire a gestire e organizzare nel miglior modo possibile le ripetizioni orali. Quindi quando proprio ripetiamo per capire se abbiamo studiato tutto in modo corretto e se c'è qualcos'altro ancora da aggiustare e sistemare. La strategia che riuscirai a utilizzare alla fine di questo video ti permetterà di studiare da un punto di vista di tempo impiegato, meno come quantità proprio, ma meglio da un punto di vista qualitativo e ti spiegherò man mano anche perché avviene questo. Prima di iniziare ti ricordo che attraverso il link in descrizione è disponibile quindi puoi richiedere subito il corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Troverai tantissimo materiale, lezioni, pratiche anche un po' più teoriche che servono, contenuti scaricabili, istruzioni e così via. In ogni caso per quello che riguarda il video di oggi vediamo la sigla e poi iniziamo a parlare di spaced repetition e ripetizioni orali. Per farti capire a livello pratico come devi applicare i principi della spaced repetition per ottenere il meglio dalle ripetizioni orali partiamo dall'errore più comune che in quanto studenti o studentesse abbiamo commesso. Capendo l'errore poi possiamo applicare la tecnica corretta. Ipotizziamo che partiamo con una prima ripetizione del materiale. L'abbiamo studiato ed è il momento di spiegare a voce alta le informazioni per capire se sappiamo tutto e se ci sono ancora punti da rinforzare. Normalmente si parte con una prima ripetizione, poi subito dopo e senza aspettare molto si passa alla seconda per vedere se man mano le informazioni le ricordiamo sempre meglio. Questo è l'errore di base. Nello specifico il fatto di non aspettare e di passare subito dalla prima alla seconda ripetizione senza sosta e senza sapere in realtà quando fermarci diciamo questo è il problema reale e il motivo è molto semplice. Per la nostra mente, per il nostro cervello è necessario tra una ripetizione e l'altra mantenere un minimo di distacco, un minimo di distanza in modo tale da non aggiungere ulteriore sforzo e permettere quindi il consolidamento delle informazioni che servono e anche la possibilità di eliminare informazioni scorrette, sbagliate e aggiustare eventuali dimenticanze o omissioni. Quindi l'errore di base è non aspettare e mettere una ripetizione dopo l'altra senza sosta. Quello che dovresti fare invece è in un certo senso mettere uno spazio temporale tra una ripetizione e l'altra. Per farlo nel modo migliore in assoluto dobbiamo vedere come si applica la space repetition e quindi ecco che le due tecniche si associano. Prendiamo come punto di riferimento questi 12 giorni. Prendo 12 giorni così come numero in generale, ma vedrai che puoi applicarlo a qualunque quantità di tempo vuoi dedicare alla ripetizione orale. Ipetizzando quindi che alla fine di questi 12 giorni il tredicesimo è il giorno dell'esame, quando devi andare a ripetere rispettando quello che abbiamo visto qualche istante fa? Partiamo con il primo giorno. Lo dedichiamo alla ripetizione. E' giusto. E ti dico di più, anche il giorno dopo, quindi qui aumentiamo un po' l'intensità delle ripetizioni, entrambi questi giorni, i primi due giorni, dedichiamoli alla ripetizione. Perché le informazioni possono essere numerose, possono essere difficili. E' normalissimo dimenticare una buona parte delle informazioni. Quindi diciamo che i primi due giorni li possiamo tranquillamente dedicare alla ripetizione. Quello che cambia rispetto all'approccio normale alla ripetizione e che invece è caratteristico della Space Repetition sono i giorni, come il terzo, che adesso vedi in rosso, che non dobbiamo dedicare alla ripetizione. Ma non dobbiamo proprio toccare quel materiale. Dobbiamo fare altro. O studiamo altro, ripetiamo altro, o non studiamo proprio. La cosa importante è non toccare quelle informazioni. Dobbiamo lasciare alla nostra mente il tempo di poter consolidare e risistemare quello che abbiamo appreso durante la prima e la seconda ripetizione. Le ripetizioni successive ci permetteranno di consolidare ancora di più. Infatti, il quarto giorno, torniamo nuovamente a ripetere. Questa ripetizione sarà intervallata da altre pause che via via saranno sempre più prolungate e sostanziose, in un certo senso. Infatti, il quinto giorno, torniamo a non toccare quel materiale, torniamo a non ripetere. Il sesto giorno, invece, ripetiamo. Quindi, come vedi, c'è un'alternanza. Due giorni sì, uno no. Un altro sì, un altro no. Un altro sì e così via. Questo vai e vieni permette di mantenere attive le informazioni nella nostra mente quando ripetiamo. E poi lasciare sempre nella nostra mente il tempo necessario per consolidare quello che via via stiamo apprendendo, andando ad aggiustare anche i punti deboli che possono svilupparsi ed è normale che ci siano. Dove cambia adesso un pochettino l'applicazione della Space Repetition? Paradossalmente, più ci avviciniamo all'esame e meno dobbiamo ripetere. Quindi, il settimo giorno non ripetiamo e non lo facciamo nemmeno l'ottavo giorno. Lo facciamo il nono quando andiamo a recuperare tutto quello che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Non farti fregare, in un certo senso, da questi giorni in rosso. Non sono giorni in cui non hai studiato. Sono giorni in cui, seguendo i principi dell'apprendimento, hai lasciato alla tua mente il tempo di poter consolidare le informazioni senza aggiungere ulteriore carico di altre ripetizioni che non servirebbero. Applichiamo questo principio non ripetendo nel giorno 10. Il giorno 11 e il giorno prima dell'esame, cioè il giorno 12, completiamo con l'ultima ripetizione. Ti faccio notare che la frequenza delle ripetizioni è andata via via diminuendo, fino poi al giorno dell'esame. E su 12 giorni, 6 li abbiamo dedicati alla ripetizione. 6 non li abbiamo dedicati alla ripetizione, quindi abbiamo studiato attivamente per il 50% del tempo. E in modo, tra virgolette, non attivo, ma la nostra mente lavora sempre per elaborare le informazioni, l'altro 50% del tempo. Questo è il grandissimo vantaggio della space repetition, che ci permette di fare meno e ottenere di più. Perché se avessimo ripetuto tutti i giorni, dal primo al dodicesimo, saremmo arrivati completamente stanchi, fusi, e avremmo ricordato molto molto meno di quello che invece riusciamo ad ottenere applicando la space repetition alle ripetizioni orali. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi, ma se dovessi avere altri dubbi, chiarimenti, quello che vuoi, non farti nessun problema. Te lo dico sempre a scrivere o nella sezione dei commenti o attraverso i link che trovi in descrizione. Sempre in descrizione c'è il link per richiedere il corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. e io ti ringrazio per la tua attenzione, per il tuo tempo e ti aspetto nel video che uscirà domani.